siamo praticamente a novembre e vista anche la situazione cerchiamo di rilassarci guardando cosa ci propone l'ambito streaming di netflix prime video e disney plus nella bara sotto in descrizione trovate gli agganci al servizio che più vi interessa e già che ci siete ricordatevi di iscrivervi mettere mi piace commentare condividere nel caso c'è puro link a fantascientificas relativo alle puntate del mio podcast e infine un link per sostenermi ringrazio tutti quelli che già lo fanno come sempre parto da quello che reputo più rilevante su netflix con i suoi film le sue serie e la sua animazione e infine i documentari siamo a novembre e ahimè si inizia con le uscite natalizie la prima è jingle jangle un film che ripercorre le avventure di un giocattolaio di una piccola cittadina cui viene rubata la sua più brillante creazione dal suo fidato apprendista un film descritto come un'avventura visiva e musicale adatto a tutta la famiglia io sono un po dubbioso il ritorno di sofia lorena viene in questo la vita davanti a sé dove interpreta un'anziana donna che con riluttanza inizia a prendersi cura di un 12enne senza tetto di origini senegalesi un film italiano ed autore che spero porti una boccata di profondità alle produzioni nostrane sulla grande n ancora un film dedicato alle feste con natale in città in cui una donna ritorna nella sua città natale con intenzione di comprare immobili e sfrattare tutti per fare centri commerciali ovviamente lo spirito del natale ci metterà allo zampino un grande classico natalizio insomma ron haward porta su netflix e legge americana un film familiare dove un ex marine che si sta per laureare in legge è costretto a tornare a casa e a scontrarsi con il suo passato che provava a dimenticare un film impegnato di un regista che è sempre stato a suo agio nell'approfondire queste trame ennesimo film sul natale ma questo qualcuno salvi il natale 2 ha un babbo natale impersonato da kart russell quindi la storia riprende due anni dopo il primo film e i due ragazzi che hanno salvato il natale sono cresciuti e una è pure scappata di casa ma il natale ha ancora bisogno di loro in arrivo poi il primo novembre alcuni film come i ponti di madison county ancora 48 ore e sniper 5 passo adesso alle serie tv la prima di queste è love and anarchy una serie incentrata sul sovverchiamento delle norme sociali da parte di una consulente aziendale che incontra un informatico con cui instaura un gioco di seduzione che avrà ripercussioni sempre più importanti su tutti loro a me questa sembra fantascienza cioè un informatico e gioco di seduzioni nella stessa frase mi ha stupito l'arrivo di questa paranormal una serie egiziana tratta da romanzi che hanno venduto milioni di copie ma a me assolutamente sconosciuti la serie però sembra interessante con la storia di un cinematologo egiziano che agli inizi degli anni 60 si imbatte in un'avventura che metterà in dubbio le sue certezze basate sulla razionalità mi intriga anche i favori di mida una serie ispirata ad un racconto di jack london un uomo d'affari viene ricattato in uno strano modo se non paga una grossa somma di denaro verranno uccise persone a caso e lui li avrà sulla coscienza ora non ho ben presente questo vecchio racconto ma l'idea sembra molto intrigante per analizzare l'essere umano segnalo anche in arrivo le nuove stagioni di mi senti undercover e the crown che non riuscirò mai a pronunciare correttamente parlando di serie animate segnalo the liberator una serie incentrata sulla seconda guerra mondiale che racconta l'anno e mezzo passato da una unità in europa per liberarla dall'invasione dei nazisti dal trailer sembrano usare una tecnica molto particolare a metà strada tra un film un cartone e un videogioco segnalo anche in arrivo la seconda stagione di greed pretender che ho trovato molto interessante e particolare ultima cosa per netflix segnalo il documentario su sean mendes un cantante pop canadese sicuramente noto al pubblico di adolescenti e in arrivo il 23 novembre il momento di amazon prime è propizio ha appena acquisito i diritti per la champions league in streaming per il prossimo triennio ma sulle sue produzioni ancora non riesco ad appassionarmi sebbene molto curate e di spessore inizio con il film dreamland che vede presente in duplice veste di attrice e produttrice margot robin l'harley queen per eccellenza il film è ambientato nel texas degli anni 20 e parla della storia d'amore roccambolesca tra lei che è una rapinatrice di banche e lui che la scopre sul fatto sinceramente non so che aspettarmi se non una bella ricostruzione in costume d'epoca passo ora alla serie alex rider in uscita anche qui da noi in italia dopo l'uscita mesi addietro in uk e germania la storia di spia adolescenziale prende spunto dal secondo libro della saga in cui il protagonista viene reclutato per svolgere sotto copertura una missione segreta per conto di un'agenzia segreta legata alla msx tutto questo per colpa di suo zio ex spia di lungo corso che non si fa scrupoli a passare il testimone all'ignaro nipote non posso poi non ricordarvi quanto prime video pulluli di trasciate d'autore ma per i dettagli è meglio che mi seguiate su fantascientificas nel mio words of streaming la disney il mese di ottobre ha fatto una dichiarazione non da poco spero abbiate visto il video a riguardo altrimenti è meglio se lo recuperate e ora punterà molto sullo streaming purtroppo è ancora presto per godere di questa spinta infatti le uscite interessanti non sono tantissime inizio con la serie tutte italiane e preadolescenziale i cavalieri di castel corvo incentrata su due fratelli di 11 e 13 anni che vengono mandati dalla zia a studiare lì conoscono altri ragazzi coetanei con cui iniziano a condividere esperienze non proprio comuni legate ad uno strano gioco di società e ad altre cose misteriose di quella strana cittadina italiana io ho sempre un po di terrore ad approcciare queste serie ma diamole una possibilità non si può pensare a disney senza pensare a topolino quindi ecco arrivare il meraviglioso mondo di topolino una serie di autopromozione poiché è dedicata alle varie aree tematiche dei disney world in questa serie i personaggi più iconici del mondo di topolino intraprenderanno incredibili avventure in un mondo ignoto dove l'impossibile è reso possibile dalla magia disney arrivano poi documentari interessanti il primo è marvel 616 dedicato alla cultura pop che questo brand fumettistico è riuscito a far risaltare sul grande schermo in questi ultimi 15 anni ogni episodio affronterà il mondo marvel nel suo insieme dedicando un approfondimento particolare a fatti e cose poco note come il ruolo delle donne nei fumetti e a tutti quei supereroi creati dal brand negli anni ma poi dimenticati penso che anche voi vi siate appassionati alla storia dei primi set astronauti usa quindi guardatevi la vera storia di the right stuff che svela tutte le imprecisioni storiche e aggiustamenti ai personaggi che sono stati fatti per rendere ancora più avvincente la corsa allo spazio del progetto mercury infine segnalo che dal 27 novembre arriveranno a catalogo alcuni film del duo italiano migliore di sempre bud spencer e terence hill per l'esattezza altrimenti ci arrabbiamo banana joe e io sto con gli ipopotami una scelta che spero disney completi per rendermi molto più appetibile il suo catalogo sono una persona semplice rido per le loro belle mazzate ora non scappate perché anche se siamo giunti alla fine delle uscite in streaming di settembre vi voglio ricordare ancora una volta di condividere questo video commentare mettere mi piace iscrivervi al canale una cosa di poco conto per voi ma che porterà tanta gioia in me al prossimo video ciao ciao